buongiorno a tutti amici ecco la raccolta di questa mattina carciofi dell'orto sotto casa guardate che belli queste adesso vanno puliti e cotti ecco lì i carciofi puliti questo è lo scarto eccoli qua poi dopo va cotti e mangiati col sugo buongiorno a tutti amici ecco la raccolta di questa mattina carciofi dell'orto sotto casa guardate che belli queste adesso vanno puliti e cotti ecco la raccolta di questa mattina